Si chiama Sensibilmente il progetto didattico nato nell'ambito del processo di contratto di lago del bacino dei laghi di Avigliana che si è concluso con un evento giovedì 22 marzo nell'area antistante Il Lago Piccolo. 440 studenti hanno preso parte alle attività a cui ha partecipato anche il vice sindaco metropolitano Marco Marocco insieme ai sindaci e agli amministratori dei comuni e del parco Alpicozie. Il contratto di lago comunque nel solco di quello che è stata la provincia e nella continuità di quello che è oggi la città metropolitana sono quell'occasione per tutelare il territorio e per informare la cittadinanza e unire le amministrazioni in quello che è il bene comune quindi il lago, in questo caso il lago. Nell'occasione sono stati illustrati i risultati del progetto. Ed è stato votato il logo destinato a rappresentare il contratto di lago. A vincere è stata la proposta della classe seconda della scuola media Defendente Ferrari di Avigliana. Le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, infatti, sono state coinvolte insieme ai loro insegnanti in un concorso creativo per l'ideazione e la realizzazione del logo. Dopo un momento di formazione in formazione in cui è stato illustrato il processo del contratto di lago. All'evento finale hanno partecipato anche gli studenti dell'Istituto Tecnico Galilei di Avigliana. Il Galilei è presente in questa attività attivamente con due classi, una classe del CAT, i futuri geometri, e una classe terza del turistico. Perché siamo presenti? Perché i ragazzi del CAT hanno progettato un percorso e un po' la riorganizzazione di un'area a parcheggio di quest'area, di questa zona. E i ragazzi del turistico naturalmente hanno contribuito attivamente a individuare quali possono essere i luoghi che effettivamente possono rientrare in un percorso turistico e di rivalorizzazione di quest'area dei laghi. L'evento è il momento finale di un percorso condotto dal Servizio Risorse Idriche della città metropolitana con le scuole del territorio, che si è anche avvalso dei volontari del Servizio Civile Nazionale. Qua mi sono occupata per il contratto di lago di Avigliana, della parte di didattica e di comunicazione con i ragazzi del territorio in cui loro abitano. Spesso non lo conoscono alla perfezione e per questo motivo abbiamo organizzato questo progetto che li ha portati innanzitutto in giro sul campo nel loro territorio, ma ha permesso loro magari anche di approfondire alcune parti di didattica a scuola facendo delle lezioni e dei laboratori.